Stefano De Martino potrebbe condurre affari tuoi al posto di Amadeus Stefano De Martino pensa di soffiare da sotto il naso affari tuoi al suo collega? L'ultimo rumor Stamattina Giuseppe Candela sul suo profilo personale del Social X ha fatto presente che Fiorello avivarà i due e ha fatto una battuta delle sue Fiorello, qualora un giorno i pacchi non dovessero essere più di Amadeus, li condurrà il ministro Lollo Brigida Ma proprio da questa battuta il giornalista di Dagospia.it e di Il Fatto Quotidiano ha lanciato un succoso rumor. Di cosa si tratta? A quanto pare ci sarebbe realmente un conduttore che vorrebbe tanto prendere il posto del suo collega alla conduzione del game show dell'ex Esprime Time di Rai 1. Chi? L'ex marito di Belen Rodriguez, volete sapere chi briga per rubargli affari tuoi? Stefano De Martino Il conduttore di Rai 2 vuole prendere la guida di Sanremo? Parla Giuseppe Candela Il giornalista di Il Fatto Quotidiano e di Dagospia.it, sempre in questo suo post sul Social X, dopo aver rivelato che Stefano De Martino punterebbe in futuro a prendersi affari tuoi, ha anche colto la palla al balzo per lanciare un'altra indiscrezione Di cosa si tratta? A quanto pare il presentatore di stasera Tutto è Possibile, il quale è stato recentemente avvistato con l'ex moglie Belen Rodriguez, punterebbe pure a prendere le redini della prossima edizione del festival di Sanremo Orfana di Amadeus Il ballerino punta pure a Sanremo, avvisate Conti. Eppure c'è da dire che quest'ultimo in diverse interviste ha sempre negato di voler prendere la guida dello show, asserendo di credere che non sia ancora il momento giusto Il presentatore sta insieme a Bianca Guaccero? Arriva la smentita di lei In attesa di sapere se Stefano De Martino potrebbe davvero avere concrete chance di approdare ad affari tuoi al posto di Amadeus e prendere le redini della prossima edizione del festival di Sanremo c'è da dire che anche la sua vita privata continua ad essere al centro dell'attenzione E in questi ultimi tempi è stato anche vociferato che l'ex marito di Belen Rodriguez avrebbe una storia con l'attrice e conduttrice Bianca Guaccero Si segnala che proprio quest'ultima da Monica Setta ha colto la palla al balzo per smentire seccamente tali voci, asserendo che tra loro c'è sempre stata solo ed esclusivamente una bella amicizia e tanta stima reciproca, ma niente di più Io e Stefano De Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme